Buongiorno e benvenuti alla nostra terza puntata monografica dedicata a Giuseppe Garibaldi. Sono Mauro Gelfi, come ricordo all'inizio della puntata parliamo di Giuseppe Garibaldi anche perché è il bicentenario, non solo perché Bergamo è città dei mille, ma perché è il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. E questa brevissima ricostruzione, che vuole essere di Tascalica, ovviamente, vuole, per così dire, avvicinare la figura di Garibaldi in modo critico superando però gli stereotipi che su Garibaldi tutti noi abbiamo, ma anche gli storici, tutto sommato. E nella precedente puntata ci eravamo fermati in questa cavalcata, per così dire, brevissima, intensa sulla biografia di Garibaldi ci eravamo fermati al 1849 e vorrei soffermarmi sulla morte di Anita nelle paludi ravennate. Garibaldi aveva condotto la sua gente per 500 chilometri dopo la sconfitta della Repubblica Romana, quindi era partito da Roma, ha attraversato i colli, poi Terni, Todi, Arezzo, San Marino, stiamo parlando a piedi ovviamente, fino a Cesenatico, e benché rincorso da cinque eserciti riuscì a indenne da questa lunghissima marcia, sopportando tra altre cose diversi scontri. San Marino chiede asilo alla Repubblica, ma quando gli furono noti i pericoli che quel piccolo popolo correva per la sua presenza nel territorio, scrisse un proclamo alle sue truppe che le scioglieva da ogni obbligazione militare, ma che le impegnava per la prossima occasione, tipico dell'atteggiamento di Garibaldi, di non chiudere mai definitivamente anche di fronte ad una sconfitta, ma di lasciare la speranza, una speranza che nel caso specifico poi dovrà aspettare undici anni, ma certamente la speranza per il futuro. Riparte da San Marino e giunge a Cesenatico di notte. Dopo qualche ora i Garibaldini prendevano il mare sopra numerosi piccole navi, nonostante che i pescatori non fossero soddisfatti di questa sorpresa. Anita, la moglie, stava male. Garibaldi avrebbe voluto fermarla a San Marino, ma lei non si lasciò a convincere dicendo che non voleva essere abbandonata proprio in quel momento. Era una storia di grandissimo amore, quella tra Anita e Giuseppe Garibaldi. Quando furono in mare, egli avvertì la gravità del suo stato e pianse per non poter far nulla per la sua donna. Questo ci è noto dalle memorie, dai pochissimi propri motivi, documenti che sono giunti a noi. Poche barche sfuggirono alla cattura operata dagli austriaci quella notte, tra questa quella di Garibaldi. Sbarcò portando Anita morente sulle sue braccia. Era il mattino del 3 agosto 1849. La povera creatura aveva ormai attraversato mezza Italia a cavale dopo San Marino e la marcia fino al mare era durata 23 ore. E, come vi dicevo, sorda ad ogni consiglio, era sempre stata vicino a suo marito. Quando giunse nella fattoria Guiccioli era in gravissimo stato. Garibaldi supplicò il dottore di salvarla, ma ormai era troppo tardi. Non so chi di voi abbia visitato quei luoghi che sono di una bellezza incredibile, sono molto belli, molto interessanti. Già che ci siete, passateci un weekend, portatevi la bicicletta. Sono luoghi molto belli da girare in bicicletta e già che ci siete andate a vedere proprio la fattoria e il luogo dove morì Anita. Anita morì mentre il suo pepino, come lei lo chiamava, le stringeva forte la mano, come hanno raccontato i testimoni. Fu sepolta da altri sotto poca terra sabbiosa perché il suo salvatore gli impose di partire subito, non si poteva aspettare. Gli austriaci battevano la zona e sapevano della sua presenza. L'ordine era di fucilare Garibaldi. Gli austriaci non avevano l'ordine di catturarlo, ma di ucciderlo. Quindi attraversò le Romagne, la Penina, la Toscana e finalmente giunse a Livorno. Non aveva un soldo, ma non soffrì mai la fame. Incontrò molta gente e non fu mai tradito. E questo da sempre, come dire, fu sempre aiutato con lealtà e slancio dagli italiani di ogni condizione. E questo forse ci dà anche una delle chiavi di lettura del mito di Garibaldi di cui parlavamo ormai alla prima puntata. Giunto a Nizza, salutò sua madre e abbracciò i figli di Anita e i suoi. Ma presto dovette lasciare l'Italia, proscritto per la seconda volta. La nuova partenza sembrava, volesse significare che la sua vita era finita, ma nel fondo del suo animo intuiva che il destino gli aveva asserbato altri momenti legati alla storia d'Italia. La sua storia non era terminata. E d'altra parte, ormai, era evidente che nessuno poteva fermare naturale, per così dire, la naturale evoluzione, cioè la creazione dello stato italiano. 1849, quindi un anno assolutamente fondamentale per 1848-1849 per capire la storia d'Italia. E anche per quanto riguarda Bergamo c'è un dato che forse pochi conoscono, troppo pochi conoscono. Bergamo è medaglia d'oro per i fatti del 1848. Perché? Perché Bergamo aiutò militarmente, politicamente, anche economicamente, i modi del 1849. In particolare, con un'impresa disperata da un punto di vista militare, ma molto importante da un punto di vista, per così dire, anche umano, moltissimi furono i bergamaschi che accorsero a Brescia, scusatemi, nel tentativo di liberare Brescia dagli austriaci. Tra questi c'erano i nostri camozzi, molto famosi a Bergamo, e per questo motivo fu dato, 50 anni dopo, la medaglia d'oro al valore militare. Bergamo forse poche volte si ricorda di questi aspetti. E qui mi si è permesso un ultimo inciso prima di chiudere il nostro appuntamento. È evidente che in una città come Bergamo, in particolare una città come Bergamo, non fosse neppure immaginabile che un movimento così ampio, stiamo parlando di centinaia, di migliaia di bergamaschi, non era evidentemente un movimento contro la religione, non era un movimento identificabile da un punto di vista ideologico, se non con quello dell'idea dell'unione nazionale e di una certa idea ancora molto, molto vaga, ma certamente importante, di eguaglianza sociale. E non è un caso che troveremo poi nel 1859 e ancora nel 1860, molti dei Garibaldini, scusatemi, scusatemi, molti degli uomini bergamaschi che parteciparono nel 48, li ritroveremo poi durante la seconda guerra d'indipendenza nel 1859 e poi con Garibaldi nel 1860. Quindi un retroterra politico forte, politico e umano. Bene, con quest'ultima annotazione chiudiamo questa puntata. Vi ricordo solamente che anche Bergamo sta partecipando in modo attivo alle celebrazioni del bicentenario e penso di potervi dire con relativa sicurezza e sono previsti una serie di eventi, soprattutto nel mese di maggio, a partire dal 4 maggio, riguardante il bicentenario. Ci saranno sia convegni, ci saranno, verranno presentati dei giochi multimediali, giochi multimediali realizzati dal Museo Storico di Bergamo, dal Museo del Risorgimento di Milano e dai colleghi del Museo del Risorgimento di Pavia, che gireranno poi tutta l'Italia, seguiranno le tappe del Giro d'Italia, perché sapete forse che quest'anno il Giro d'Italia è intestato a Giuseppe Garibaldi. Su questi temi ritorneremo anche nei notiziari, nelle rubriche d'approfondimento per informare i nostri ascoltatori delle iniziative. Intanto vi ricordo che potete leggere tutte le iniziative e quindi rimanere informati consultando anche il sito www.bergamestoria.it oppure www.garibaldi2007.it. Bene, un saluto a tutti da Mauro Gelfi. Mauro Gelfi